Sono previste a giorni importanti novità sull'apertura del centro di raccolta dei rifiuti differenziati realizzato nell'ex autoparco comunale dalla ditta Eco Energy. In attesa che si insedi la commissione governativa dopo lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose, il commissario prefettizio Massimo Mariani avrebbe avviato a conclusione le pratiche necessarie alla definitiva entrata in funzione dell'impianto. In particolare nei giorni scorsi il commissario uscente ha dato mandato agli uffici comunali competenti per svolgere un nuovo sopralluogo nel sito. A seguito del nuovo controllo i tecnici comunali hanno chiesto alla ditta che gestisce il centro di raccolta alcune precisazioni. La Eco Energy fa sapere di aver risposto ai quesiti posti e di attendere solo il nulla osta da parte del comune. Una prima schiarita sulla questione è attesa per giovedì 6 marzo. L'inaugurazione del centro di raccolta e smistamento dei rifiuti era prevista per lo scorso 11 gennaio ma l'appuntamento venne poi rinviato. La Eco Energy fece sapere che alla base della decisione c'erano problemi familiari della proprietà. L'impianto di valorizzazione della frazione secca dei rifiuti differenziati nel comune di Scalea è un'opera molto attese per la quale nei mesi scorsi la ditta di Airola in provincia di Benevento aveva ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie e l'agibilità dei locali. L'impianto è stato realizzato sulla base di un progetto presentato in risposta a un bando emanato dalla vecchia amministrazione comunale finalizzato al recupero degli immobili comunali, tra questi anche l'ex autoparco comunale in località Pantano.